Nata a Laviano nel Perugino nel 1247, appena 18enne, Margherita va a convivere con un giovane nobile di Montepulciano, che non la sposa neppure quando nasce un figlio e che muore assassinato nove anni dopo. Allontanata dai parenti dell'uomo e dalla propria famiglia, trova accoglienza a Cortona, dove lavora come infermiera per le partorienti. Provvede all'educazione del figlio, che si farà poi francescano, e si dedica agli ammalati poveri. Prende con se alcune volontarie, che si chiameranno poverelle, promuove l'assistenza gratuita ad omicilio, si fa aiutare da famiglie importanti e nel 1278 fonda l'ospedale della misericordia. Accanto al servizio al prossimo vive anche un'esistenza contemplativa, in cui evade da tutto per meditare sulla passione del Signore in solitudine e dura penitenza. Avvezza le decisioni radicali, una domenica torna nel suo paese nativo, a Laviano, per raccontare a tutti, in chiesa durante la celebrazione eucaristica, le sue vicende giovanili e per chiedere perdono. Tra i suoi malati e le sue penitenze, Margherita è attenta pure alla vita pubblica della città, che l'ha accolta e adottata. Si chiede il suo intervento per mettere pace nelle contese cittadine tra famiglie in lotta, tra Guelfi e Ghebellini, tra la gente di Cortona e il vescovo di Arezzo, Guglielmo degli Ubertini. Nel 1289 Margherita è tra coloro che danno vita alla confraternita delle Laudi. Trascorre gli ultimi anni in solitudine e già venerata come santa, fino alla morte il 22 febbraio del 1297. Papa Benedetto XIII la proclama santa nel 1728. Le sue spoglie sono custodite nella concattedrale di Cortona a lei dedicata.